Dichiarata l'insolvenza per la vecchia banca Etruria, il Tribunale fallimentare di Arezzo ha accolto l'istanza del commissario liquidatore Giuseppe Santoni, rigettata invece l'eccezione di costituzionalità sul decreto salvabanche del 22 novembre, che era stata presentata da Michele Desario, legale di Lorenzo Rosi, ex presidente dell'Istituto. Desario avrebbe già annunciato l'impugnazione della sentenza presso la Corte d'Appello. Il collegio dei giudici composto da Clelia Galantino, presidente del Tribunale di Arezzo, e da Antonio Picardi e Paolo Masetti ha quindi sciolto la riserva accogliendo il ricorso del commissario liquidatore. Le carte passano così in procura perché si proceda per gli eventuali profili penali. A questo punto il procuratore Rossi, come ha già dichiarato, potrà procedere alle indagini per bancarotta fraudolenta. Vediamo come vanno le indagini, se ci saranno rinvii a giudizio, nel qual caso una possibile strada sarà la costituzione di parte civile nel procedimento penale per i risparmiatori per il ristoro del danno patito. Effettivamente il decreto è incostituzionale, è proprio lampante. Ecco perché ti dico, quella scrittina che c'è scritta nei tribunali, la legge è uguale per tutti. Spero che non venga cambiata, perché altrimenti qui in Italia si vede solo che la legge non è uguale per tutti. Allora è incostituzionale questo decreto, è davanti agli occhi di tutti, c'è l'articolo 47 della Costituzione che dice tutt'altro rispetto a quello che è stato fatto, quindi per ora è il Tribunale di Arezzo che ha deciso questo. Vedremo poi anche il ricorso al TAR che sarà poi l'ultimo baluardo per vedere un attimo che deciderà l'incostituzionalità di questo decreto. Però ecco questa è una notizia tra virgolette brutta, però si vede che si è voluto scegliere un procedimento che va sotto altre direzioni e non sotto l'incostituzionabilità. Intanto slittano le norme per il rimborso agli obbligazionisti. Nel cosiddetto decreto banche appena approvato dal Consiglio dei Ministri non ci sono infatti le norme sui criteri per i rimborsi ai risparmiatori delle quattro banche Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e Carife. Per essere molto chiaro non c'è bisogno di un decreto legge, perché la legge di stabilità che è stata fatta un mese fa, un mese e mezzo fa, già prevede un percorso. Si tratta di aspettare il decreto ministeriale, anzi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale subito dopo o viceversa, comunque i due decreti che mancano, gli IPCM e i decreti ministeriali, che sono sostanzialmente pronti e che quindi saranno presentati nei prossimi giorni. Chi ha perso i soldi sta zitta, capito? Dopo tanto passa il tempo e se ne scorda delle cose. Questa è, non lo so, come noi ci preoccupa però non si sa come va a finire questa cosa, non è ancora deciso come sarà, le chiacchiere tante ne fanno.